Veneva da parrocchia tutte le sere, sempre a quest'ora, o suonava una campana, e a nonna stava nanzano fra sere, arravugliata d'indoscia all'elana. Culla campana aveva qualche punta. Dopo il rosario ci puntava oculta d'omunacella o d'abella umbriana. Accompagnavo vien da mie seppianta, la storia di brigante e do tesoro, come stivamo attendo tutto quanto, non so fra sere, che pareva d'ora. Quando la ceniza davantava cenere, la nonna ci cuceva una cotogna, e mentre la notte cominciava a cenere, si spannevo la miente una zampogna, trammava la porta, fossero i briganti. e ho vien dati in due boschi e capemonte. I capi si facevano pesanti, veneva il suono, e ci passava in fronte. Chi suonava l'orca, chi ha madonna, chi ha un'acella, chi ha bella umbriana, e ci cantava sempre a nonna e nonna, il suono in una zampogna o in una campana. Incubi in una promocna. Si pate attraverte le Miranda Vercin occhio, puissi,ni fa karmio svona, suonava il求 da di controller, chi ha un qualcosa di più gratuito. Scopi ofrete le Miranda Vercin, Nontaglio, ch vieni all'orca, ciele di Samped Ba supprimo del 3878T. Grazie.